Musica Ben trovati a TGM, il telegiornale di Medie24 che apriamo occupandoci dell'incendio che ha coinvolto ieri sera poco prima della mezzanotte un'autovettura a Lignano Sabbiadoro nel mentre il proprietario era intento a fare rifornimento in una stazione di servizio di Viale Europa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che nello spegnere le fiamme hanno riscontrato come le stesse fossero divampate a causa della presenza di aghi di pino sotto l'autovettura. Fortunatamente non sono state coinvolte persone. Un'altra automobile ha preso fuoco questa mattina in Viale Treviso a Pordenone. Dopo aver notato del fumo uscire dal cofano motore, gli occupanti hanno accostato l'auto in una laterale ed hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco, i quali giunti sul posto hanno rapidamente spento le fiamme. La regione del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per il maltempo di lunedì scorso. Intanto nel Pordenonese stanno proseguendo gli interventi dei vigili del fuoco. Sono ancora al lavoro i pompieri di Pordenone per rispondere alle centinaia di richieste ricevute dopo il maltempo di lunedì sera, che ha devastato alcune zone della provincia. Sfiorano a quota 300 gli interventi portati a termine in poco più di 36 ore dalle 12 squadre impegnate nelle operazioni. I turni sono stati raddoppiati, inoltre vi è il supporto anche dei colleghi dei comandi di Bologna, Cesena, Cremona, Forlì, Reggio Emilia, Torino e Udine. Intanto è stato dichiarato lo stato d'emergenza regionale, mentre il vice governatore Riccardi ha assicurato il pieno sostegno ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni. Saranno messi a disposizione 100.000 euro, dei quali 94.000 andranno a beneficio della popolazione sfollata di Azzano Decimo per la sistemazione provvisoria in strutture alternative agli alloggi danneggiati e non abitabili. Importo questo da riconoscere direttamente alle amministrazioni locali coinvolte a ristoro delle spese sostenute. 3.000 euro invece saranno destinati a rimborso dei datori di lavoro per l'operatività dei volontari dipendenti e altri 3.000 euro serviranno alle pristano dei beni dei materiali deperibili impiegati nella gestione della prima emergenza da parte della protezione civile regionale. A Mota di Livenza il Caffè Commercio è arrivato al Capolinea, ma l'architetto Alfonso Visentin ha scritto alla sovrintendenza per l'archeologia del Veneto orientale affinché venga mantenuta almeno la destinazione d'uso del locale, il servizio di Matteo Pesce. Un bar storico del centro e troppi affitti non pagati al comune. La storia del Caffè Commercio è una storia ormai vecchia di anni che a breve vedrà la parola fine con lo sfratto dell'esercente. Ma è proprio in questi giorni così cruciali che la questione si è riaccesa dopo che un architetto di Mota, Alfonso Visentini, ha scritto alla sovrintendenza per l'archeologia del Veneto orientale. L'emilia era soltanto un'intenzione di segnalare alla sovrintendenza una protezione di destinazione d'uso in modo che non cambino per altre attività commerciali o terziari o uffici, quindi mantenere la tradizione locale che fa parte del paesaggio sostanzialmente. Quindi per Mota una destinazione ad uso turistico? Sì, credo che il futuro di questi cittadini che hanno una loro storia sia proprio una vocazione turistica che sarà il futuro oltre alle attività produttive o agricole. La vocazione potrebbe essere quella di paesi turistici che potrebbero mantenere un certo commercio e una certa attività alberghiera oltre che culinaria, d'arte e di cultura sostanzialmente. Questa è la visione di Visentini. Ora l'unica cosa da fare è affidarsi alla giustizia. Ci spostiamo adesso a Fiume Veneto dove al centro commerciale Gran Fiume continuano le iniziative rivolte alla salvaguardia dell'ambiente. Fino al 31 dicembre in galleria sarà a disposizione dei clienti un ecocompattatore. Gran Fiume Gran Shopping di Fiume Veneto prosegue l'impegno nelle attività di salvaguardia dell'ambiente con una nuova iniziativa. Sino al 31 dicembre resterà installato in galleria un ecocompattatore brandizzato Gran Fiume con esso al riciclo delle bottiglie in plastica. I consumatori del centro commerciale potranno inserire nell'apposita postazione le bottiglie in plastica ricevendo buoni sconto da utilizzare direttamente nei vari punti vendita del centro commerciale aderenti all'iniziativa, secondo le modalità di utilizzo di volta in volta riportate sul bono stesso. Una volta selezionato e premuto il pulsante stampa, l'ecopoint allargirà il bono sconto richiesto. I partecipanti potranno anche decidere di passare la tessera sanitaria dell'intestatario dell'utenzatario davanti al lettore ottico. In questo modo l'ecopoint registrerà il numero di bottiglie inserite e mostrerà il saldo totale abbinato alla tessera sanitaria. Per ogni bottiglia riciclata si otterranno 5 punti corrispondenti a 0,05 euro. A raggiungimento di 100 bottiglie depositate, l'avente diritto potrà richiedere il proprio buono acquisto del valore di 5 euro. passando la tessera sanitaria utilizzata per la raccolta dei punti sotto il lettore di barcode, l'ecopoint e seguendo le istruzioni. A Caorle il campeggio Santa Margherita ha ottenuto la terza stella, ma alla cerimonia non è stata invitata la minoranza ed è polemica. Novità per il campeggio Santa Margherita di Caorle. La storica struttura della località balneare a soli 5 minuti dal centro storico di Caorle e a due passi dal mare, gestita dalla Don Moschetta per conto del comune di Caorle, ha raggiunto i requisiti necessari per l'ottenimento della terza stella. Nel concreto alcuni degli interventi che sono stati realizzati e motivo del conferimento riguardano i lavori di adeguamento della struttura, sia per quanto riguarda le piazzole che ospitano i campeggiatori, sia per le altre aree del campeggio che necessitavano di risanamento e di implementazione dei servizi offerti alla clientela. L'amministrazione ha inoltre dotato il campeggio di nuovi mezzi a trazione elettrica per permettere agli operatori di effettuare gli spostamenti necessari all'interno dello stesso. Ha installato un gruppo elettrogeno in grado di supportare e sostenere l'energia elettrica di tutte le aree della struttura. Altra importante novità è la presenza di una stazione motorizzata di intervento rapido in caso d'incendio. In soli cinque anni il campeggio è passato ad ospitare da 50.000 a 70.000 utenti nell'arco della stagione estiva. Gestiamo il campeggio Santa Margherita dal 2017, ha dichiarato il presidente Giovanni Carrer. Il raggiungimento della terza stella è frutto di un lavoro svolto in sinergia tra tutti i lavoratori e l'organo di indirizzo. Alla cerimonia di consegna c'era il candidato sindaco Marchesan, ma non è stata invitata alla minoranza. Tanto è bastato per far scoppiare la polemica in piena campagna elettorale. Le zone gestite dall'aeroporto di Aviano saranno interessate sino ai primi di settembre da una serie di voli di addestramento notturno. I valivoli del 31esimo Fighter Wing potranno volare fino alle ore 24, secondo quanto approvato dall'Aeronautica Militare. Il comando dell'aeroporto di Aviano e il 31esimo Fighter Wing adotteranno tutte le procedure necessarie per minimizzare il più possibile gli eventuali disagi alla cittadinanza. A venerdì 20 agosto alle ore 21 i musicisti dell'Opter Ensemble si esibiranno nelle musiche di Schrecker e Respighi nella cornice della Cattedrale Santo Stefano di Concordia Sagittaria. L'evento è inserito nel contesto del programma di concerti di Aspettando il Festival, la 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica di Portoguaro, organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia. L'ingresso è libero, su prenotazione fino ad esaurimento posti con presentazione del Green Pass. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Concordia Sagittaria. Apriamo adesso la pagina sportiva, parliamo subito di calcio direttanti. È iniziata ieri sera l'avventura del calcio sanstino. Il servizio. Nessun tipo di scaramanzia, il sanstino non si nasconde. Facendo i debiti scongiuri nei confronti di un campionato ormai alle porte, il quale si spera abbia a potersi svolgere finalmente in modo regolare, il club liventino si è radunato per l'inizio della preparazione. Un campionato di prima categoria del quale i liventini dovranno essere tra i protagonisti. Per far questo gli inesti sono stati mirati con il DS Borgolotto che ha fatto arrivare sei elementi alla corte del confermato mister Alessandro Gabatel. Le new entry sono l'estremo difensore Nicola Fagherazzi dall'Alpago e il terzino Enrico Michelin dal Vazzola. La mediana è stata rinforzata con Francesco Benedetti dalla Gorgense ed Edoardo Favaretto dal Cessalto. È risultato irrobustito anche il reparto avanzato con gli inserimenti del laterale Alessio Frasson proveniente dal Ponte Crepaldo e dell'attaccante Tommaso Moro lo scorso anno all'Union Pasiano. aggregati anche un gruppo di elementi che attualmente sono in forza al settore giovanile. Diciamo che nella passata stagione abbiamo un po' testato la categoria. Diciamo che essendo neopromosse abbiamo un attimino organizzato la squadra con tempi necessari rispetto a un paio d'anni fa. La stagione entrante sarà una stagione che punta a portare Sanstino a competere per l'alta classifica. Qualche innesto è stato fatto. Diciamo che la squadra è una squadra giovane e fatta con ragazzi di qualità. Quindi noi puntiamo sempre a valorizzare i giovani del paese e cerchiamo di dare luce un po' anche alla città che secondo il nostro parere merita magari una categoria superiore. Una categoria superiore dalla quale Sanstino manca da diverso tempo. Sì, diciamo che da qualche anno stiamo cercando di programmare il tutto. Quindi un po' anche vanno considerate un discorso economico. Ormai per fare categorie serve appunto avere disponibilità di più cose. In questi anni appunto abbiamo cercato anche delle collaborazioni. In quest'anno particolare si sono avvicinati degli sponsor che ci danno la possibilità anche di far bene. Questo è importante per le società locali come le nostre. Infatti perché voi vivete anche come tante altre società di manifestazioni enogastronomiche e quant'altro. Purtroppo per il Covid non siete riusciti quest'anno a farle, neanche l'anno scorso, il che in effetti è un problema e quindi è vitale il fatto che siano entrati dei nuovi sponsor. Sì, certo. Diciamo che ormai noi come associazione avevamo creato delle iniziative che ormai qua in paese, in zona, erano molto conosciute, tipo Costa Longa, Sardea Longa, che sono un po' di iniziative create da noi. Diciamo che in questi due anni sono mancate quindi un po' tutte le società della zona qua che hanno sostegno, un po' di iniziative hanno sofferto di questo. Quest'anno abbiamo appunto la collaborazione di due ditte, una locale, una composta da sanstinesi che comunque ci permette di organizzare un campionato che secondo noi può essere competitivo. E nella sede dell'Associazione Bibionesi Albergatori, il Motoclub BB1 di Bibione ha presentato questa mattina gli eventi motoristici in spiaggia di fine stagione, due appuntamenti di grande rilevanza. Vediamo. È stata presentata questa mattina dal presidente Massimo Zamparo presso la sala convegni dell'Associazione Bibionesi Albergatori la quattro giorni motoristica organizzata dal Motoclub BB1 che andrà in scena sul litorale antistante Piazzale Zenit nei weekend del 16-17 ottobre e 23-24 ottobre, date nelle quali si disputeranno la finale del trofeo Enduro KTM ed il trofeo Enduro Triveneto. Quest'ultimo vedrà come anteprima la spettacolare gara in notturna diventato ormai un must della proposta motoristica del BB1, due eventi di caratura internazionale che vedranno convenire sul litorale un gran numero di piloti e richiamare lungo il circuito alcune migliaia di appassionati. Quest'anno avremo due weekend motoristici molto molto importanti e vi dico le date prima di tutto perché poi avremo 16-17 ottobre e 23-24 ottobre. Primo weekend. Il primo weekend ci sarà una cosa che per Bibione è nuova e perché è nuova? Perché avremo la finale del campionato o meglio del trofeo KTM Usquarna e Gas Gas. Grande cosa perché avremo una una fluenza di circa 500 piloti e quindi ci fa onore ma perché ci fa onore? Perché la KTM Italia ha scelto la location di Bibione o meglio anche il motoclub Bibione quindi questa cosa ci ha fatto un sacco piacere che sia costruita e fatta e sviluppata nella nostra città. Quindi vi aspettiamo in questo weekend non solo per guardare le moto ma anche per vedere qualcosa di più colorato che fondamentalmente ha. Anche per gli appassionati di bici possiamo dire che quel giorno c'è lo Usquarna ufficiale, bicicletta parlo, che presenterà tutti i modelli 2022 quindi non poca cosa. Passando al weekend successivo 23 e 24 abbiamo il campionato Triveneto Enduro quindi non sarà l'ultima tappa come era l'anno precedente ma bensì è la penultima ma non importa, è sempre importantissima come manifestazione e quindi aspetteremo circa un 250 barra 300 piloti dal Triveneto. Siamo qui, il motoclub Bibione fa sempre una grande cosa ricordo che il sabato precedente quindi il giorno 23 ci sarà la gara notturna di motocross dove vedremo campioni di ogni tipo tra cui anche la nostra Georgia Blasic che in questo momento sta combattendo al mondiale motocross femminile e poi ci sarà anche qualche altro nome sicuramente molto importante della nazionalità. Ecco diciamo che stiamo parlando di un evento che sarà uno dei più partecipati al mondo. Allora più partecipati al mondo sì perché il trofeo KTM messo assieme ai due marchi Gas Gas e Usquarna ci saranno circa 500 piloti quindi è il secondo evento al mondo dopo la sei giorni come presenza di piloti. Questo non è poca cosa quindi è uno sforzo enorme per il motoclubibione per tutti i nostri uomini ma ne andiamo fieri. Avete abbinato anche al sport la solidarietà quest'anno? Sì, l'idea ci è venuta un po' perché tutti abbiamo passato dei brutti momenti e visto che forse ne stiamo uscendo abbiamo pensato di coinvolgere appunto delle associazioni di meno fortunati chiamiamolo così e per cui saranno presenti in piazzale li faremo partecipare, li coinvolgeremo con le moto emozionalmente con l'evento e cercheremo di essere presenti anche perché poi mi sono anche dimenticato di dire ai signori prima che una parte del contenuto ricavato andrà a queste associazioni che non è poca cosa perché tutti se diamo una mano un po' alla volta magari rendiamo un po' più felici qualcuno più sfortunato di noi. Parliamo adesso di equitazione, oro e bronzo per le amazzoni dell'equipoli stiziana ai campionati italiani di Cattolica, noi li abbiamo avvicinate. Oro nel dressage e bronzo nel salto d'ostacoli ai campionati italiani di Cattolica per la scuderia equipoli stiziana di Fossalta di Portogluaro due medaglie pesanti che confermano l'eccellenza della scuola equestre fossaltese. Nel dressage la più brava d'Italia è stata Maria Zappalà nel salto d'ostacoli sul terzo gradino del podio è salita Aurora Rosson. Quest'anno ho vinto i campionati italiani pony dressage appunto nella categoria emergenti che si è svolta ai primi di luglio, è stato un lavoro di questi 4-5 anni insieme a maestro che appunto ha dato risultati in questo ultimo mese. prossimamente avremo diversi appuntamenti, quest'anno purtroppo non potrò partecipare alle poniadi per limite d'età, però parteciperò alla Coppa delle Regioni Dressage che si svolgeranno credo verso ottobre. Senti, che cos'è l'equitazione per te? Beh, per me l'equitazione è un, diciamo, è uno sport che mi mette in relazione con il mio pony che mi aiuta a lavorare e stare appunto, creare un legame, un contatto con lui diciamo c'è tutto un lavoro dietro questi concetti e per me anche significa, è un lavoro appunto su anche molto tecnico il dressage ma anche l'equitazione in tutte le categorie. Dovessi consigliare l'equitazione a una tua amica perché dovrebbe venire a praticarla? Beh, l'equitazione intanto mi permette di stare all'aria aperta quindi tutti i giorni vengo qua per stare a contatto con degli animali mettermi in relazione, stare all'aria aperta appunto e avere un contatto con un animale e un legame. Allora Rosson, ormai tu sei un abitué dei vari podi nazionali e anche mondiali perché hai vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali a squadra appunto con la nazionale italiana. Quest'anno a Cattolica hai preso la medaglia di bronzo sei arrivato sul terzo gradino del podio e ti aspettavi magari qualcosa di più? Diciamo che puntavo la medaglia d'oro perché se sono rimasta prima fino all'ultimo giorno mi va benissimo così. Tu hai un percorso di crescita indubbiamente sempre continuo? Sì, il mio poni quest'anno che devo ringraziare tantissimo oltre a medaglia bronzo di bronzo ai campionati italiani mi ha fatto vincere la medaglia d'oro al test event a Manerbio e al poni master show di Arezzo. I prossimi appuntamenti quali sono? Il prossimo sono i campionati italiani cavalli con la mia cavalla Cristina ad Arezzo in cui porterò anche il mio poni a fare le gare aggiunte e parteciperemo al campionato assoluto Children nella 130. Quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi sicuro sono arrivare a saltare le gare più grosse ad esempio il Global e magari arrivare alle Olimpiadi sarebbe un sogno e ci metterò tutto l'impegno possibile per realizzarlo. Invece parlando di poni il mio sogno, il mio obiettivo sarebbe arrivare il prossimo anno ai campionati europei poni che si stanno svolgendo in questi giorni in Polonia. Come ti sei avvicinata al mondo dei cavalli? È capitato un giorno che i miei genitori mi hanno portato proprio in questo maneggio in cui ormai sono da otto anni e ho provato a fare una prima lezione ma doveva essere proprio uno svago poi mi sono appassionata a questo mondo e i miei genitori ogni giorno mi danno una mano per continuare e già dopo il primo anno di equitazione mi hanno preso il mio primo pony, Sakinto che è venuto anche lui ai campionati italiani appunto con la Saravet e dopodiché quando è arrivato Sodare lui ha iniziato a realizzare proprio tutti i miei sogni che io non mi aspettavo di sicuro tutto questo e lui mi sta realizzando tutto tutti i miei sogni, i miei obiettivi. Ed era questa la nostra ultima notizia il telegiornale di Media24 finisce qui vi lascio alle previsioni del tempo noi ci rivediamo nelle prossime edizioni sempre qui sul canale 606 del Digitale Terrestre grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti